In attesa di un nuovo DPCM del Governo che dovrebbe indicare le nuove misure e limitazioni per il Natale per evitare ulteriori incrementi di contagi da Covid-19, le regioni hanno giocato d'anticipo e alle voci di chiusura delle piste da sci hanno risposto approvando le linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici per evitare altre pesanti ricadute economiche. È un documento che inviamo al Governo come contributo propositivo per non compromettere la stagione, non creare un danno irreversibile all'economia della montagna dei nostri territori, ha annunciato il Vice Presidente della Conferenza delle Regioni Giovanni Toti. L'auspicio ha chiarito e che come è accaduto in precedenza il Governo voglia condividere con le regioni i necessari approfondimenti, fermo restando sempre che la salute viene prima di tutto. Dure le parole del Governatore del Veneto Luca Zaia, secondo cui una stagione senza sci sarebbe un suicidio sul piano economico e sociale. Troviamo assurdo non preparare a magazzino le linee guida perché se mai decidessero di aprire o mai decidessero di aprire perché non compete a noi, ricordo che c'è questo paventato rinnovo del DPCM del 3 dicembre nel quale sembra si vogliono bloccare appunto le piste da sci e quindi l'attività degli sport invernali, noi comunque le linee guida le abbiamo fatte e questo è un primo segnale. Ovviamente è auspicabile che qualsiasi misura sia rispettosa e tenga conto sicuramente della salute pubblica ma anche di quello che è un'economia montana che senza il tema dell'invernale è un'economia messa a dura prova. Inoltre per Zaia serve un coordinamento europeo sul tema. Chiudere Cortina, chiudere altre località sciistiche, pensare che a Kitzbühel piuttosto che a Batklein-Kirkenheim o a San Moritz o da altre parti si sci, capite che la situazione è difficilmente giustificabile visto considerato che siamo in uno stesso bacino epidemiologico.